Don Valentino, questa mattina qui a Teana, all'Auditorio, abbiamo parlato di Catechesi, il direttore nazionale della Catechesi. La Catechesi, come diciamo prima a Telecamera Spenda, è un po' le fondamenta della Chiesa. Com'è oggi la situazione tra la Chiesa e quindi il clero nei confronti della Catechesi? Ci sono stati tanti catechisti e tante catechiste questa mattina. Personalmente credo che sia un momento molto vivace, anche se apparentemente non sembra, ma in realtà siamo in presenza di una comunità cristiana diffusa su tutto il territorio nazionale che sta cercando nuove modalità giuste, doverose per diversi motivi. Non da ultimo la recente pandemia che ha scombussolato un po' tutto. Quindi io lo trovo veramente un momento creativo. Chiaramente come tutti questi momenti di transizione e di passaggio diventa anche un'opportunità, un'occasione sia per fare verifica di quello che è stato, ma anche per cercare magari nuove situazioni, nuove modalità per creare le giuste condizioni perché, come dicevi giustamente, una delle dimensioni fondamentali della comunità cristiana è proprio fare una proposta. Quindi trovare anche l'efficacia, gli spazi perché questa proposta sia efficace. Ecco, già da San Giovanni Paolo II fino a Papa Francesco l'importanza del laico nella Chiesa attiva. Ma oggi com'è questa situazione? Perché non sempre si riesce a trovare questa sintonia tra il prete, il parroco e il fedele, il laio. Credo che entrambe queste categorie debbano aiutarsi reciprocamente proprio nell'orizzonte della corresponsabilità. Un tema che già il Concilio Vaticano II aveva auspicato nella Lumen Gentium. I preti devono trovare nei laici, nei battezzati, non semplicemente degli esecutori, ma dei testimoni. Così come i laici devono trovare nei preti, non semplicemente coordinatori di alcune situazioni, ma, diciamo così, fratelli maggiore che aiutano a entrare nella bellezza del Vangelo. E insieme ci si aiuta. L'esperienza che stiamo vivendo come Chiesa italiana, solicitate da Papa Francesco del Cammino Sinodale, che, secondo me, sta dando veramente dei frutti preziosi della necessità di trovare i passi giusti da fare insieme. Il Senato è un po' il corridoio che ci porta al Giubileo, la speranza, la speranza. Quanto c'è di speranza in ognuno di noi, noi che appartenenti alla Chiesa? Credo che sia una categoria, meglio, una dimensione fondamentale, proprio perché il senso anche della proposta cristiana è quella di riconoscersi in un Dio che ci concede continuamente delle occasioni e diventa il fondamento della speranza. E mai come in questo momento, credo che il mondo intero abbia davvero bisogno della voce della Chiesa per dare, ridire, consegnare speranza. E mai come in questo momento diventa veramente quell'orizzonte dentro il quale tentare di muoversi. Grazie. A voi. A voi. Toni. A voi. A voi. Grazie a tutti.